C'è posta per te, Greggio e Iacchè, ti scrivono a Belen e Iannone l'appuntamento di sabato 10 marzo con, c'è posta per te, è senza dubbio uno dei più importanti della stagione. E non è una casualità, questo sabato, infatti, comincia, ballando con le stelle, su Rai 1 che tenterà, in tutti i modi, di dare del filo da torcere allo show del sabato sera di Canale 5. Il cast, quest'anno, ci sarà persino Jessica Notaro, la ragazza sfregiata con l'acido. Insomma un primo appuntamento con il talent show di Millie Carlucci che ha spinto Mediaset a schierare i suoi cavalli di battaglia. Nel corso dell'ottava puntata dello show Amatissimo dal pubblico televisivo del sabato sera, c'è posta per te, ci saranno i due attori comici e mattatori dell'Access Prime Time di Mediaset. Stiamo parlando di Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti che hanno deciso di scrivere alla coppia del momento, quella formata dalla bellissima showgirl argentina, Belen Rodriguez e dal suo compagno e campione di motociclismo Andrea Iannone. Cosa bolle in pentola? Belen e Andrea accetteranno la posta. Cosa avranno da dire Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti? Storie divertenti a parte, a farla da padroni saranno Sentimenti e le emozioni della gente comune, di persone che scrivono per ricongiungersi ad una persona amata o un caro che non vedono da troppo tempo. Grazie a tutti!